I got an absence, I can pass that bitch like Starker Poca degli anni prima per darvi una mano magari a chi ha appena cominciato Siamo qui nella schermata principale del MyTeam Lo dico subito, non mi ritengo il massimo esperto moneta di MyTeam Anzi, quindi se faccio qualche errore o avete qualche ulteriore consiglio Lasciatelo nei commenti L'anno scorso ci ho nerdato come un maledetto Quindi posso darvi una mano Gli anni prima dell'anno scorso ci ho giochicchiato al MyTeam Quindi, ecco Allora, due cose molto semplici, molto stupide Ma che so già che aiuteranno I locker codes quest'anno sono qui Community Hub MyTeam e codice spogliatoio E per quanto riguarda le aste invece sappiate che dovete comprare sempre se possibile i giocatori la mattina Non tanto la mattina presto ma in mattinata Perché? Perché dall'altra parte dell'oceano dove c'è il 75% dei giocatori dormono E chi dorme non piglia pesci E voi che siete svegli per il fusolario i pesci li pigliate voi E quindi la mattina i giocatori costano sempre 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 di meno E invece, per lo stesso ragionamento Vendere la sera E fate prendere i pesci E facendogli anche pagare sazio Agli americani che sono svegli dall'altra parte dell'oceano Ricordate, è molto importante per salvaguardare di Soprattutto se non shoppate E sempre per quanto riguarda le aste Altro consiglio che vi do Quando escono i giocatori ed escono di venerdì e molto spesso di martedì Vedremo se anche quest'anno si conferma questo trend Ci saranno i pacchetti e vi consiglio di comprare i giocatori che vi piacciono Delle collezioni che escono di venerdì e martedì La settimana dopo A meno che non vi servano per motivi indispensabili Tipo per il limite durante il weekend I pacchetti colossal che sono usciti di venerdì 10 I giocatori conviene comprarli la mattina di venerdì 17 Perché sarà il momento in cui avranno il valore più basso E rivenderli casomai la settimana dopo Quando non sono più nei pacchi E tornano ad alzarsi il loro valore Non è una regola generale Ma la maggior parte delle volte è così E dette queste due cose di base Andiamo a guardare un po' il My Team come modalità Allora, qui a differenza della carriera Fatemi sapere anche qui se vi può interessare un tutorial Anche se lì sono un po' meno esperto Per quanto riguarda il livello 40 E i vari grind da fare durante la carriera Che magari vi potrebbe essere utile anche quello Qui nel My Team non è tanto più gioco Più vado avanti nei livelli Più MT faccio Più XP Più cose Bisogna giocare con un po' di cervello all'interno del My Team Non tanto quello che si fa in campo Ma con quali giocatori e quali azioni si portano a casa in campo Parlando della prima stagione Ma sarà vaido anche se questo video lo guarderete a gennaio Come a marzo Per arrivare al livello 40 Con 150.000 XP C'è un bel grind da fare Ma state tranquilli perché è fattibilissimo E anzi quest'anno hanno messo diversi modi in più Per fare XP Prima cosa Differenza importante Che è passata sotto traccia Sfide giornaliere ce ne sono 4 Cercate di farle più o meno sempre tutte Ecco Io quando c'è una partita di Unlimited Evito di fare una sfida Perché la Unlimited mi fa venire i brividi Però tutte le altre volte Cercate di fatele Di farle E voi direte Per 100 XP Chi se ne frega Sì ma sono 500 XP qui Moltiplicati per I 40 giorni della stagione Se lo fate ogni giorno Ammettiamo che lo fate per 30 giorni Sono 15.000 XP Sui 150 Fatti solo con le sfide giornaliere Per dire Così come altre sfide che vanno fatte sempre Sono quelle delle ricompense stagione 1 Questi sono i giocatori che vi danno durante la stagione Visto che ve li regalano man mano che grindate Capite bene che la mole di XP Soprattutto per il diamante Che sono 2500 XP Sono tantissimi Considerando che è la prima stagione Vanno fatte assolutamente queste qui In quale modalità A meno che non richieda per forza una modalità Come quella di Ray Nance Per dire In quale modalità vanno fatte queste partite E queste sfide nel dominio Il dominio è la modalità che Aperto il gioco a settembre Ma anche se lo aprite a dicembre Lo stesso identico discorso Va fatta per prima Oh Non è obbligatorio Se volete entrare E voi volete giocare solo a treplici e minaccia online Fate pure Però se mi state dicendo Voglio fare la squadra Voglio avere i contratti Come faccio a avere gli MT Token Arrivare al livello 40 Dominio 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 Difatti io sono indietrissimo Perché il dominio? Perché facendo una partita a tre stelle E non è particolarmente complicato Essendo anche la difficoltà a All Star Vi beccate gli MT della partita Vi beccate con 5 stelle lo smeraldo E vi beccate con 15 stelle Quindi 3 stelle per ogni division Per ogni squadra di ogni division Quindi 15 qui 15 qui 15 qui E così via Vi beccate uno zaffiro evolvibile Arubino Che evolvendo tutti questi qui Delle 15 stelle Vi beccate un diamante Finendo il dominio Vi beccate Dremon Green Ametista C'è una quantità Di MT Di token Di pacchetti Perché ogni vittoria con tre stelle Vi dà anche il pacchetto Del dominio Dove ci sono contratti Dove ci sono scarpe Dove ci sono Miglioramenti Ci sono badge C'è Di tutto Di tutto Il dominio È una fonte di Carte per la collezione MT Token Giocatori E possibilità di fare le sfide Infinita Quindi il dominio È quello che va fatto Assolutamente per primo Io sto andando a giocare Una partita con i Celtics Per farvi capire anche Un po' come funziona Nel momento in cui sto parlando E questo magari verrà aggiornato Nel commento In evidenza O venite su Twitch Magari per scoprire Di volta in volta Quali sono gli schemi Buggati La freelance Queste cose qui Che sono cose molto importanti Essendo il giorno 3 Per adesso Schemi Uno non servono più di tanto E due ancora quello E lo schema Buggato Che vi è venuto a far sempre canestro Non esiste Le vostre impostazioni difensive Adesso se la vostra grafica Su PS4 È diversa E lo stesso discorso Saranno stretta Stretta E passa davanti Sui pick and roll Molto semplicemente questo Per quanto riguarda L'impostazione alleatore Levate il motore dinamico Di gestione Mettete il minutaggio manuale Così lo potete scegliere voi La sostituzione Se vi piace Automatico Mettetelo Ma io vi sconsiglio Perché io farei Manuale La play vision completa La play vision offensiva Tutta Così avete Avete tutto Io ho Le decisioni tattiche difensive Le metto manuali Che è meglio Così gli schemi Offensivi Se attiviamo da solo Ma quelli difensivi Quelli difensivi no La freelance La chiamiamo dopo Col time out Perché non me l'ha trovata Dal menu Che potete aprire Col tastino destro Vedete Col tastino destro Potete andare in Non serie Ma freelance Che c'era sotto Non è apparso Hoax 2018 Allora chiamiamo time out Dovete chiamarlo Sempre voi Per attivare questa cosa Quando arrivate In questa schermata qui Quadrato per allenatore Triangolo per piano partita E su difesa Andate a selezionare Andate a selezionare Dove cazzo È Hoax 2018 Eccola qua Perché? Perché come vedete Quando andate a giocare Il piccaroy Col vostro uno Che ha la palla Ci sarà tutto Il campo libero E avrete tutto Lo spazio del mondo Per andare a giocarvi L'uno contro uno Mi metto qua sotto Così lo potete vedere E questo vi dà Una quantità di spazio Incredibile Ed è fondamentale Questa cosa Per il dominio È fondamentale Vi faccio vedere La squadra Con cui sto giocando Non è niente di che Per quanto riguarda La difesa Invece A meno che non giochiate Contro Ben Simos Andre Dramond Quelli lì Con cui potete staccarvi E marcare Marcare lontano Dalla palla L'uomo Io vi consiglierei Di marcare sulla palla Quando cominciano Le penetrazioni Scegliete il vostro Scegliete il vostro lungo E andate ad aiutare Perché anche se Prendete canestro Ma difendete bene Vi dà buona Buona difesa sul tiro Che sono più 3 MT No? Il discorso poi È sempre quello Qui Cercare di fare più MT possibili Nel minor tempo Possibile Ovvero fare sempre Canestri con gli assist Possibilmente Tirare spesso Da 3 punti Oppure andare a schiacciare Che sono le due cose Più semplici E vi danno più MT Fare stoppate Fare recuperate E appunto Difendere bene Anche perché per buone difese Una dietro l'altra Vi dà 12 MT No? Le difese multiple Se si riesce a tirare 10 tiri liberi E non è semplicissimo Questo Anche per me Non è proprio Semplicissimo Perché la CPU Ci mette un po' del suo Ancora meglio Perché vi dà quasi La sicurezza Di fare 3 stelle Al domino Tirare 10 tiri liberi Vedete che È filata abbastanza liscia La partita mia data bene Non ho trovato Una partita in cui La CPU segnava troppo Con la freelance E i picchiaroli a nastro Non sarà divertentissimo Sarà abbastanza noioso Però D'altronde Questo è quello che serve Per fare le 3 stelle Facili facili Anzi ho fatto anche Pochi MT Perché non sono riuscito A fare i tiri liberi Potreste arrivare Tranquillamente Sopra i 900 MT A partita Quindi Considerate che Non è anche fatto Tutto quello che avrei dovuto E oltre ai 900 MT Che portate a casa Potenzialmente Avete il pacchetto stella Che sono 3 carte Con dei contratti E il campo La divisa Dei Celtics E roba del genere Un altro pacchetto E avete Danny Hange Quindi anche un giocatore Oro Per l'amor di Dio Però comunque fa tutto numero Io ho fatto due partite Quindi mi becco anche Tennis Maxi Una cosa invece Che vi sconsiglio di fare E il Luca Doncic Perché Dovete fare Tutte queste cover Qui Per andare a portare a casa Luca Doncic di Amate Che ovviamente Non gioca a Playmaker E quindi Non lo so Ha molto più senso Secondo me Almeno per le prime Due season Tenere abbastanza Basso il budget Di spesa Per i giocatori Visto che qui Bisogna fare Completare due set Est o ovest Se scioppate Lo potete fare Tranquillamente Se non scioppate Io Non ve lo consiglierei Grinderei Piuttosto Per il Carmelo Anthony Che mi pare Molto più sensato E molto più forte Non credo Sarà sbroccato Quanto Curry Della season 1 Dell'anno scorso Però Sarà di sicuro Un ottimo Un ottimo giocatore Date sempre un occhio Altro consiglio Alle sfide Perché ci possono essere A parte le spot Che arrivano sempre Queste Con l'andare dell'anno Contengono sempre Giocatori di qualità Ci sono le sfide Abilità Che hanno messo Nuovi reward Nuove cose Quest'anno Per adesso Niente di che Ma ne verranno di sicuro Giunte altre Che tante volte Hanno il pacchetto Hanno il badge Hanno la scarpa diamante Che sono sempre Sempre utili Da tenere d'occhio Sempre qui nel mercato pacchetti Sono le ricompense Ovvero i token Andate a prendere I giocatori di token Perché il set carry Qui zaffiro Per dire È mostruoso Quindi andatelo A prendere Assolutamente Come anche Il kelly ubre Non è per niente male Zubac non è male Pedimis Ma anche gli smeradino Ce ne sono di male Io adesso Li ho presi quasi tutti Parlando adesso Della cosa Multigiocatore Che è comunque La parte più importante Io unlimited Non sono molto capace Non mi piace Anzi secondo me È ampiamente La modalità peggiore Del gioco Quindi non andrò A darvi particolari consigli Questa se state grindando Per l'XP Io eviterai A meno che non sia Obbligatoria Come vi ho detto Il limited invece È un'occasione importante Anche per fare Delle sfide Perché vi permette Magari di mettere In campo dei giocatori Che altrimenti Non fareste giocare E ci sono delle sfide E ci sono delle sfide personalizzate La maggior parte delle volte Durante il weekend Quindi durante il weekend Doveste grindare Un po' di più Visto che il weekend Probabilmente sarete anche a casa Si gioca solo durante il weekend Quindi questo Vi consiglio di farvi l'anello Che vi beccate Devin Booker Ci potrebbe volere Anche se avete culo Una partita sola La triplice minaccia Online È un altro grandissimo metodo Per fare MT e token È chiaro che è più difficile Del dominio Perché si gioca online Si gioca 3 contro 3 È un modo diverso Di giocare Quindi Occhio Quest'anno hanno cambiato Anche la modalità Nel senso che avete I 100 punti subiti Se vi dice culo Potete fare diversi K di MT In una partita sola Magari non adesso Quanto più Fra qualche mese Dove i premi sono un po' migliori Con 5 palline Se vi beccate I 1000 1500 MT Due volte E fate 1000 MT Che sono forse tanti Durante la partita Capite bene Che È importante È importantissima Questa modalità qui Per questa modalità Che ci sono i terzetti Da giocare Io vi consiglio I giocatori buggati Perché purtroppo Il mood È un po' quello Nel senso Non ha senso Prendere Il carmalone Di turno Per andare in post basso È meglio giocare Con Come lungo Per dire Adesso Io ho usato E mi sono trovato Molto bene Questo Kevin Durant Qui Perché comunque Durant difende abbastanza Sui lunghi Prende abbastanza Limbazzi Fa un sacco di stoppate E dall'altra parte Kevin Durant Non ve lo devo spiegare io Il draft È una modalità Che ancora devo scoprire Perché è una novità Uscirà il primo draft Nei prossimi giorni Su 2K Quindi restate sintonizzati Iscrivetevi al canale Per non perdervi neanche quello Vi consiglio Ovviamente Di giocarlo con i ticket Piuttosto che pagarlo Con i VC Ma potrebbe essere Anche questo Da quello che ho visto Un modo Per fare Tante sfide Perché troverete Giocatori che non avete Nella collezione Quando fate la squadra Uscite Andate a vedere Nella season Con Quali giocatori Della squadra Quali sfide potete fare E concentratevi su quelle Oltre che alle vittorie Online Il draft Chiaramente Per dire Le sfide dei colossi Io avevo trovato Ginobili Spoiler Vedete che ho fatto 27 dei 100 punti Chiudo dicendo La triplice minaccia offline Che è forse Quella un po' meno utile Per fare l'XP Perché le partite Sono a 21 È vero che magari Per fare qualche Doppia doppia Per prendere dei rimbalzi O fare qualche stoppata Torna utile Perché vi mettete Il giocatore forte Che vi serve E poi vi mettete Duori scarsi Per abbassare l'overall Anziché È anche Troppo forte Ecco altra cosa Che vi dovevo dire E con questo Fate le sfide Vi è un po' più facile Però Contando che qua Il matchmaking È fatto a cazzo di cane Giocate offline Non so quanto Possa essere utile Una cosa che vi consiglio Anche che prima Nel domino Non ho fatto Per dire Avere sempre Nel domino In squadra Almeno 2-3 Di queste squadre Grade up Di giocatori Grade up Perché Non perché Siano utili a niente E questo Lo andate a fare Dalla mia squadra Servizio di valutazione Carte Perché vi danno Dei bonus Agli MT E più giocatori Che ancora Che ancora da scoprire Potrebbe alzare Potrebbe alzare posizioni Durante Durante l'anno Mettiamola così Una breve overview Adesso Dei giocatori Invece Quali da prendere Quali no Il discorso è Dipende molto Dalla fase del gioco In cui siamo Al day one Nel primo mese di gioco Team Hardaway Playmaker Che è alto 6.0 Va benissimo Perché conta Molto la velocità Man mano Che si va in là Col gioco E tutti sono un po' più Tutti sanno fare un po' tutto Andrà a contare Sempre 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 Di più l'altezza Quindi un playmaker Di 6.0 Diamante Sarà molto probabilmente Peggio di un playmaker 6.6 Rubino Per non parlare Poi dei Ben Simmons playmaker Che è quello Un altro discorso Però Per dire Nella zona playmaker Va sempre considerata Molto L'altezza Nella zona Guardia La piccola Va molto considerato Il tiro da tre punti Perché saranno Fermi dagli scarichi O dietro ai pick and roll Da tirare da tre punti Mentre per i lunghi È importante Sì la difesa Sì i rimbalzi Sì le cose Ma anche molto velocità E soprattutto Rapidità laterale Quindi sì Spero che questo video Vi sia stato utile Mi sarò sicuramente Dimenticato qualcosa Come vi ho detto all'inizio Lasciatela E aiutatemi A completare questa guida Nei commenti Mi trovate in live Ogni sera Signori La maggior parte delle sere Saremo sul my team A meno del parchetto Col Trevor e il Tordi Visto che siamo riditi I vari ribilli Che inizieranno poi Lasciatemi un piaccio Iscrivetevi al canale Ci vediamo nei prossimi giorni Con un nuovo video Belli boys